Il fatto di cortile siciliano, quello è stato per empatizzare appunto questa sicilianità nei piatti e quindi portare avanti i nostri valori della nostra terra. Noi abbiamo come primo prodotto che abbiamo voluto inserire nel menù è stato il carbone vegetale. Da questo abbiamo fatto queste due pizze che si chiamavano una vulcanica, una volta completata la forma del vulcano perché gli mettiamo della crema di peperoni abbastanza rossa, del salame piccante e l'altra che è l'etna, l'etna sempre con un pasta per buone vegetale e dei formaggi. La persona che lavora qui al cortile siciliano deve mettere passione, amore perché se questo mestiere non si fa con amore e con passione non ha senso farlo. In primis per la qualità, poi per la cortesia e poi appunto per l'amore che mettiamo tutti i guanti nel nostro mestiere e poi al cortile siciliano si sta bene.